Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UNINET1 in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UNINET1. Con UNINET1 l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più www.uninett1university.net UNINET1. Nel futuro, da sempre.